Io ve lo dico dall'inizio dell'anno, io quando sento parlare che questa scuola si deve salvare mi viene l'orticaria Buonasera a tutti e bentornati qui sul mio canale 1936 solo io Io lo so, mi aspettavate, lo volevate, lo desideravate Eravate in spasmodica attesa di questo video, di questo commento alla partita Cremonese Pesca, di Cremonese Pesca era partita Già è un parolone a parlare di partita Io ieri sera non è che abbia visto tutto questo calcio champagne Anzi da una parte ho visto una squadra che ha fatto il catenaccio per 85 minuti Sto parlando della Cremonese che giocava in casa 85 minuti di catenaccio puro e soltanto due tiri nello specchio e due tiri fuori Questa è stata la Cremonese che è stata brava a fare il gol con San Luca Valsanie Quando ci manchi Luca, quando ci mingo un giocatore come te qua Pescari che sta terra da fuori ari Quando ci manca un giocatore come te con le tue caratteristiche che in campo da tutto e di più E ogni tanto ti fa questi gol che ti tolgono le castagne dal fuoco Quando ci manchi complimenti, complimenti a Valsanie E in questo caso io voglio ringraziarlo veramente perché le persone che sudano, lottono e danno tutto per la nostra maglia Comunque anche quando le incontri d'avversari vanno sempre ricordate perché è giusto che sia così Luca qui tre anni fa ci ha regalato la salvezza grazie anche a quei suoi 5-6 gol che fece quel campionato maledetto Ma io penso Pescara può andare in serie con Cocco in attacco Giocando con Pettinari Con Zeman, che campionato di merda con Zeman E dopo meno male che è arrivato San Piloni che ci ha salvato Ma torniamo a ieri sera Cremonese-Pescara 1-0 Cioè la sintesi della partita o perlomeno quello che sta accadendo in questo periodo al Pescara Penso che l'avete visto L'avete visto nell'anteprima del video in quello sketch del presidente Sebastiano Cioè l'avete visto Cioè il Pescara di adesso è la pressappocchezza più assoluta di una dirigenza Che non è una dirigenza di un presidente Che non pensa al Pescara e alle sorti sportive del Pescara Ma pensa semplicemente alle soldi Ai soldi E allora questo è quello che ci meritiamo Questo è quello che ci meritiamo Quest'anno siamo passati da Zauri alle Grottaglie Siamo passati Ho criticato tanto Zauri qui nel mio canale Le ne ho dette di tutti i colori Becchino eccetera eccetera Quando è arrivato alle Grottaglie pensavo che la situazione fosse diversa Pensavo che avevamo trovato un allenatore che comunque andava a intaccare la testa dei giocatori Avevamo giocato quella famosa partita di Pordenone Dove avevo visto un Pescara che non avevo visto mai durante l'anno E poi abbiamo sempre alternato prestazioni positive e negative Positive e negative Ma quello che più mi fa adesso paura Quello che mi fa più paura mi fa tremare Io sto tremando ma non perché ho paura della Serie C Perché Paura della Serie C qualcun altro ce l'ha secondo me Secondo me paura della Serie C ce l'ha qualcun altro Perché secondo me in Serie C sto qualcun altro Gipomagnacchiutante per Rupescar Comunque Chi vuole capire capisca Anzi Per noi tifosi probabilmente la Serie C potrebbe essere L'eliminazione del male perché è dieci anni che ci sta l'umale qui a Pescara e nessuno se n'è accorto Ma spero che qualcuno incomincia a aprire gli occhi veramente e togliersi i prosciutti a capire qual è il reale problema qui a Pescara Ovvero Una squadra Una società Ripeto Che non vede le prestazioni sportive E non pensa alle prestazioni sportive della squadra Ma soltanto lì soltanto Torniamo sempre la Sembra lì soltanto Comunque Vi ho detto Siamo passati da Zora alle grottaglie E non vorrei che siamo passati dalla padella alla Brace Ma non è finita qui Perché tanto noi a Pescara Siamo bravi No tu dici Hai toccato il fondo scavando Hai toccato il fondo Ti fermi No 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 siamo bravi a continuare a scavare E ultimamente sto sentendo che Se salta alle grottaglie Cosa che potrebbe accadere Cosa che secondo me accadrà Se non vinciamo venerdì con il Perugia in casa Secondo me salterà Mi aggiunge una vocina che Raga Ma ce lo vedete voi campagnaroni In panchina allenatore del Pescara Gli spero di no Io spero di no Perché se no vuol dire allora Carlo Sebastiani Che tu inseri e ci apposti Tu stai facendo di tutto Se dopo Zauri e le grottaglie Ti venissi in mente di cambiare l'allenatore Venerdì prossimo Dopo va partire con il Perugia E prendi uno come campagnaro Lo metti in panchina Allora tu vuoi il male del Pescara Vuoi il male di te stesso Cioè Qui siamo arrivati a un Pescara Che inizio anno è partito con l'idea Di fare il 4-3-3 con Zauri Un calcio spumeggiante Un calcio champagne Dovamo giocare alti Pressing Ripartenzi In verticale Dopo Zauri Abbiamo cominciato a fare Il 3-5-2 Maledizione Quando l'hanno inventato Dopo siamo passati al 4-3-2-1 Con quella famosa partita Col Benevento Dove vincemmo 4-0 in casa Col Benevento E lì sembrava che si era aperta la luce Sembrava che si era aperta Proprio lo spiraglio La Madonna Che ti aveva illuminato Giocando con Macin e Galano Dietro all'unica punta Che ci avevamo fissati con Borrelli Brunorino in Butteviuca Manievo era improponibile Quindi ci siamo fissati così Fino a quando poi alla fine Zauri E' stata esonerata E' arrivato alle grottaglie Abbiamo ricominciato a giocare 3-5-2 Abbiamo incominciato a rifare 4-3-2-1 Abbiamo cominciato C'è un miscuglio di formazioni Di giocatori spostati Che non ti dico E di moduli Adesso C'è stato il Covid Quindi Pausa Covid Dopo tre mesi di inattività Riparti E' sbucato fuori il 4-4-2 E' sbucato fuori il 4-4-2 Come musciai esterno-sinistro Di centro campo Zappa che va a fare L'esterno-destro Di centro campo Con la licenza di Tagliare e entrare Dentro la porta E va bene Perché il ragazzo C'ha delle qualità Le stai sfruttando Però occhio Occhio perché Il ragazzo Zappa E' nato terzino All'Inter Faccio il terzino Quindi Hai spostato un ragazzo Da terzino A fargli fare Il quarto di centro campo In un 4-4-2 Allora io dico Può essere Con un giocatore Che nasce Terzino Me lo sposti Lì davanti E mi snatura Ogni volta La posizione Del giocatore Perché? Perché devi far giocare Balzano Perché Balzano E' l'unico Terzino Che ti è rimasto Dopo che Sempre la nostra Società Ti vende A gennaio Vitturini E Ciofani Sì Vitturini e Ciofani Siamo passati Dall'avere Quattro terzini A destra In averne uno solo Balzano La settimana scorsa Balzano era infortunato Aiutò a stravolgere la squadra Giocando con il 3-5-2 Dopo che tu Con lo Juve e Stabia Avevi riproposto Sto 4-4-2 Con Zappo E Memushai Castanos E Busellato E Hai cambiato ancora Le carte in tavola Quindi ancora Moduli cambiati Formazioni cambiate Ruoli del giocatore Adattate Cambiate Cioè stiamo A Luglio Il Pescara Ancora un 11 titolare Il Pescara Ancora un modulo base Il Pescara Ancora Ha un'identità di gioco Ancora non sappiamo Che cosa dobbiamo fare In campo Raga E la partita di ieri Nella riprova Nella riprova Nella riprova Cioè Palmiero E Palmiero Capitolo Palmiero Capitolo Palmiero Raga Io mi stingo di lunga Questo sarà un video Proprio Un video Guarda se l'avessi fatto I riseri Probabilmente Avrei spaccato qualcosa Avrei preso qualche denuncia Mi sono detto Ando calmo Ti firmi Ti ragiona Stai calmo Cioè Raga Palmiero Ma che cazzo di fine ha fatto Palmiero Abbiamo preso Sto giocatore Che doveva essere L'impiazzo di Brukman Al centrocampo È venuto Due partite Si è fatta male Oh porca puttana Ci avrà il ginocchio Fracico Non lo so Che cazzo C'ha su quel calzo Di ginocchio Palmiero non gioca più Sono due partite Che è in panchina A centrocampo Continuiamo a cambiare Perché Tanto Mi usciai Una voce Fale esterna Una voce Centrale Va bene Ok Ok Lo accettiamo Per non parlare Per non parlare Poi Quindi ti manca Il giocatore Che ti va a far girare Tutta la Palmiero era il faro Della squadra Il regista Della squadra Che tu non ci hai giocato Un pratica mai E quelle volte Che Palmiero ha giocato Ha fatto pure cacare Ha fatto pure Prestazioni che non sono Da Palmiero Perché l'anno scorso Vedavamo un Palmiero Che somigliava A un schizzetto Tipo pirlo Capito Quest'anno Palmiero Io non l'ho visto mai Fagli fare Chissà che Non lo so Sarà colpe dell'aria Colpe dell'umare Colpe degli arrosticini Non lo so Che problemi De Palmiero A quel cazzo Di ginocchio Sto fatto Sto fatto che Non sta nemmeno più giocando E siamo arrivati a 7 Se è partito Dalla fine del campionato Di Palmiero Non lo vedo più Non so Quando ci vuole Per rivederlo in campo Uno come Palmiero Ma A volte È meglio Che quelli Che stanno in banchina Non entrano Non giocano E allora Parliamo di un altro Oggetto misterioso E qua Mi incazzo Perché Perché io Quando vedo Bocinov Quando vede Bocinov Che ride Scherza E fa Lo 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 Cucicco A Pescara No Che sta là No I di che Bocinov Doveva essere Colui Che doveva Venirci a risolvere I problemi Lì in attacco Era L'attaccante Che è stato Combrato No È stato preso A parametro Zero Perché era Svingolato Non gioca Più Da 3-4 Anni Era stato Cacciato Dalla Società In Bulgaria Dove stava Addirittura Che lasciamo perdere Comunque Era colui Che doveva Farci fare Il salto Di qualità In attacco Perché dall'inizio Dell'anno Ci si è fatto male Sto Cristo Di Tuminello E si è rifatto male Un'altra volta Pure mo Prima che ricominciava Il campionato Negli allenamenti Si è fatto male All'altro ginocchio Distorsione Si è operato Non so che cazzo Combinato Comunque ha finito Un'altra volta La stagione Abbiamo preso Bocinov Bocinov è arrivato Non era pronto Si doveva rimettere A pari con i compagni Aveva bisogno Di allenarsi Ha avuto 3 mesi Con il covid Per allenarsi Quindi per mettersi A po Perché uno In 3 mesi No pure se tu Cioè ti puoi allenare Cazzo Puoi andare a correre Vicino casa Ti potevi allenare Hai ripreso gli allenamenti Da un mese Che ti alleni Con i tuoi cazzo Di compagni E con le grottaglie Quindi penso che Dopo 3 mesi Un po' Qualcosina Potresti essere Presentabile Per vederti in campo Invece no Abbiamo preso Bocinov Che questa è L'ennesima Presa per culo Del calcio Mercato di gennaio Qui a Pescara Che Bocinov Ve ne abbiate Per culo Che cos'è Bocinov Attualmente La riserva di maniera Bocinov La riserva Una manca di maniera Cioè ieri Gli è stato Preferito Persino Borrelli Cioè persino Borrelli Cioè ieri Non l'abbiamo visto Nemmeno ieri Che abbiamo giocato In pratica Con 4-5 giocatori Offensivi Nel secondo tempo Per cercare di riprendere La partita Non l'ha fatta Nemmeno entrare Allora voi mi dovete dire Bocinov Che cos'è Che l'abbiamo preso a fare Che utilità E il fine Di quest'operazione Di mercato Perché Inisting Cervella la testa Io mi sto Cervellando la testa La testa Cioè io leggo Articoli Su calciomercato.com Dove parlano Di operazione di mercato Pescara Juve Parma E leggo Che il Pescara Tramite il bilancio Della Juve Trimestrale Non so che cazzo Ha fatto la Juve Comunque ha dovuto Pubblicare il bilancio Si evinge Che la Juve Ha incassato 2 milioni e 300 mila euro Dal Pescara A gennaio Perché il Pescara Ha riscattato Masciangelo Il nostro terzino sinistro Dalla Juventus Allora A parte Che io volesse capire Come cazzo fa Masciangelo A valere 2 milioni e 300 mila euro Un giocatore Che ha giocato Qualche partita Ma che a me Non mi sembra Sto cazzo di fenomeno Quindi Già il prezzo Di Masciangelo Io voglio capire Come fa a valere Un certo tot Di denaro Ma Io mi spiego Una cosa Ma il Pescara A gennaio Tenne bisogno Nell'attaccante Di nutrirsi In sinistra Cioè Avevamo bisogno Dell'attaccante No Avevamo bisogno Di prendere un attacco Un giocatore d'attacco Che cazzo Mi significa Andare a spendere 2 milioni e 300 mila euro E rigirarle Alla Juventus Per Masciangelo E dopo Ci si viene a dire Che si fa il calciomercato Che Noi certe operazioni Non le possiamo fare Certi ingaggi Non li possiamo pagare Perché Non possiamo Permetterci certe cifre Però Porca di una puttana malefica Porca di una puttana malefica Però Masciangelo Lo possiamo Lo possiamo Riscattare Dalla Juve Per 2 milioni e 300 mila euro Adesso Io mi devo Subire Bocinov In panchina Che fa La La riserva Di maniero Che anche Cioè Anche al momento Il povero ragazzo Non si può vedere Perché non è più un giocatore Che può titolare in serie B Maniero E quindi Adesso Mi devo vedere Bocinov E devo sapere Che abbiamo speso 2 milioni e 300 mila euro Per Masciangelo Ma ragazzi Ma stiamo scherzando Ragazzi Ma stiamo scherzando E la partita di ieri Con la Cremonese È l'emblema di tutto Sta cingiaria Questa è una cingiaria E qui a Pescara Qual è il prezzo Che stiamo a pagare Per vedere Sta cingiaria Sta cingiaria Questa è una cingiaria Questo non è uno sport Questa non è una squadra Questa è una cingiaria Sono tutte operazioni fatte Per non si sa Per che cosa E noi dobbiamo campare Con queste operazioni Con queste cose di mercato Per che cosa Per vedere Questa merda in campo La merda di ieri Che abbiamo visto in campo Il fegato A noi c'è Bianca C'è diventato Non è più un marrone Ne è Bianca L'ufeghe Alla difusa L'ufeghe È bianca Spero che Si sia capito Il perché Siamo arrivati a questo punto E adesso Stiamo rischiando I play out Anzi Pur la retrocessione diretta Perché raga Qual è il Pescara Deve giocare ancora Perugia Fuori casa col Chievo Fuori casa col Venezia Devi giocare con Livorno Devi giocare Fuori casa con il Trapani E non mi ricordo La sesta partita Che mi sto scordando Non me la ricordo Sono tutti scontri diretti E noi con questa squadra Che non c'è un gioco Non c'è un'identità Nel senso che cazzo Devono fare in campo Non tiriamo mai in porta Col cazzo che le vinciamo le partite Col cazzo che le vinciamo Io lo Occhio perché La situazione Occhio perché La situazione Non è semplice Se venerdì Non facciamo punti col Perugia Sono cazzi amari Sono cazzi amari Sono cazzi amari Sono cazzi amari Io spero che adesso Chi mi vede Perché Ci sta la gente Che Ci sta la gente No Che Mi dilungo Questo video mi dilungo Mi voglio dilungare Perché mi tengo da sfugare Adesso mi sfugo Maledetti 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 Quelli che lucrano E che spegorono Col calcio E con la passione I tifosi Devono essere maledetti Tutti quanti Maledetti Anche i tifosi Che non capiscono un cazzo Anche i tifosi Anche la gente Che viene a vedere I miei video Che mo Già che ci stiamo Facciamo pure Questo altro discorso No Ultimamente Mi stanno venendo Tanti tifosi del Pisa A commentare I video miei Della classità Ipotetica Classifica di finale Che l'ho fatta A agosto Prima di ferragosto Prima che finiva Il calciomercato Quando non sapeva Ancora la rosa Delle squadre E ho detto Specificato E' stato chiaro Che è semplicemente Un gioco Quello che io penso Che potrebbe Accadere Durante l'anno E quindi Una classifica finale Secondo le mie sensazioni Un gioco Un qualcosa di Oh Mi stanno arrivando Tutti i tifosi Di tutte le squadre Ma in questo momento Del Pisa Ultimi Ci devi ultimi Quell'altro Gente che mi viene a scrivere Che non sono obiettivi Raga Io quando faccio i video Quando parlo Dico quello che io penso E vi rispiattello a cucina Io ve lo dico Così Mo se vi piace E' bene Se non vi piace E' inutile che venite A criticarmi O che venite a dirmi Che io Sto facendo un video Criticando il Pescara La mia squadra Dove sto criticando Il Pescara Più di così Più di vedere Una persona sincera A cucina Do cazzo lo trovate Uno che vi critica La squadra La propria squadra Il presidente Il Yucadur Eccetera Dove lo trovate Dove lo trovate Vabbè va Comunque La partita di ieri Partita di ieri La cremonese Cremonese di Bisoli Che era Squalificato Spero che Si è capito Tutto il discorso Io spero che Tutto il discorso Sul Pescara Si è capito Per come siamo arrivati A questo punto E come ci ritroviamo E come non ci abbiamo più Ci abbiamo le palle Proprio piene Le palle piene Di tutta questa situazione Poi qualcuno Vi scriveva Che siete ridicoli A Pescara Non c'è nessuno C'è una curva Ecc Perché siamo arrivati A cucinare Siamo arrivati a cucinare Perché ne potremo Supportare più Tutto sta marmai Sta cingiari Non lo vogliamo Vedere più A noi non ci interessa La serie A La serie B O la serie C A noi ci interessa Una società Che fa sport Che fa pallone Che se ti serve Un attaccante Vi compra un attaccante Se ti serve uno Centro-Lambist Vi compra un centro-Lambist No che fidi Operazione di mercato Tanto per Ce ne capite Ma lasciamo Tutto sto discorso Andiamo a parlare Della partita di ieri Andiamo a parlare Di Cremonese-Pescara Andiamo a parlare Di quello che non è stata Una partita In pratica La Cremonese in campo Con il 4-3-3 Con Ravagli in porta Bianchetti-Ravanelli Teranova e Zorteas In difesa Valsania-Cassagnetti E Gustafsson A centro-gambina Attacco Ciofani Ex-Pescara Con ai lati Selar E Parigini Il Pescara è tornato A 4-4-2 Ancora una volta Fiorilli in porta Balzano a destra Betteles con Gnamiglio Masciangelo è tornato A sinistra Zappa esterno-destro Di centro-campo Memuschiai Esterno-sinistro Di centro-campo Bussellato Busellato E non Cassanos Questa volta Clemenza A centro-campo No ragazzi Scusatemi Memuschiai non l'ha fatto Essendo sinistra Memuschiai ha fatto Il centrale Insieme a Bussellato Con Clemenza Spostato a sinistra Il primo tempo Maniero E Galano Coppia D'attacco La partita è iniziata Ci siamo cagati sotto Come al solito Siamo entrati impauriti In campo La Cremonese Ci ha subito Prestato Attaccato forte Cross Della destra Di Valsania Scognamiglia Ha rimpallato La palla Tre volte Tre volte Ha provato A ribattere La palla Tre volte Ha fatto tre ciofeghe Ripassando la palla Al limite dell'area L'ultima volta L'ha ripresa Valsania Il pallone Camulla Due destra La palla Ed ha finito Palo Gol Bellissimo Il gol di Luca E finita la partita La Cremonese Questa Cremonese Pescara Per quanto riguarda La Cremonese E finita qua Non la Cremonese Per il restante 90 minuti Dico 90 Perché è finito Il 95esimo Quindi era il quinto 90 minuti Di Catenaccio Catenaccio puro Fermi Bloccati Dietro la linea Nella palla Nella loro metà campo Tre ripartenze Una Con Parigini Cambio di gioco Parigini Sulla sinistra Prende palla Rientra su Balzano Tira sul primo palo Fiorillo Si è abbassato Ha preso la palla Fine nel primo tempo Pescara il primo tempo Non ha fatto Nulla Zero Il Pescara Nel primo tempo Semplicemente una volta Con Zappa Che si è inserito Tirato di sinistra Non abbiamo mai Tirato nello specchio La porta Questo è il primo tempo Secondo tempo Pescara cambia Pescara cambia Con Clemenza Che torna un po' più Al centro Diciamo 4-3 1-2 Poi abbiamo addirittura Spostato Garano Sulla destra Inserito Borrelli Abbiamo inserito Pucciarelli Già qui potremmo stare A parlare Perché Pucciarelli In Nioca In Piete Pucciarelli Sostituire Macin A gennaio Pucciarelli In Nioca Ma non gioca Va bene Qui discutiamo sempre Delle scelte Di Legrottagli Secondo tempo Altra azione In contropiede Bellissima Con un lancio Per Ciofani Che spizza la palla Per il Bianchetti Che si è inserito Inserito in area Il Bianchetti Arrivato al tiro Ma ha tirato A lato Poteva essere Un'azione Importante Per la Cremonese E il Pescara È stato in pratica Pericoloso Due volte Ovvero Ripartenza veloce Lancio in profondità Di Clemenza Verso Ganano Che taglia Anticipa Il Zortea Ganano Va Dritto Verso Ravaglia Tiro di sinistra Tutto aspetto Di raggiro Uno scavetto Col portiere Che tiene A tirata A lato A lato La palla Sta Il fotografo Sta ancora a fotografare La palla Va bene Se non fai sticollo Poi meriti di perdere E poi punizione Di Memushani Ribattuta Sulla ribattuta Sul rimballo È arrivato Clemenza Da fuori area Tira una bella Staffilata di sinistro Sotto l'ingrocio Ravaglia Ti fa il paratone Sotto l'ingrocio La differenza Sta qua Tira Valsani E fa il gol Palo gol Tira Clemenza E Ravaglia Fa il miravolo Il Pescara C'è un'altra occasione Con Zappa Che è sulla destra Poi la mette in mezzo E Puccerelli Ci arriva in scivolata Due secondi Dopo il ritardo Questo è quello Che è riuscito A combiare il Pescara In 90 minuti Di supremazia territoriale Di Possesso palla Perché abbiamo Tutto sempre No il possesso palla Ti dicchi toc Passaggetti Conservano un cazzo Di niente E alla fine Il Perugio ci poteva fare Pure il 2 a 0 Sempre Con una ripartenza C'è Ravolo Che dal limite Dell'area di destro La tira alto Questo è il resoconto Della partita La Cremonese Che ha fatto Un tiro Il primo tempo Palo gol E tre occasioni In ripartenza In tutti 90 minuti Dove è stato Sempre Costantemente Nella propria Metà campo Dietro la linea Del pallone Tutti quanti Indietro A coprire La propria porta E qualche volta Hanno provato a fare La ripartenza Per farci il gol In contropiede Il Pescara 90 minuti Non siamo riusciti A fare Un tiro Serio In porta Tranne quello di Clemenza Che è una cosa casuale E personale Fatta Con una giocata Dopo Arriva una palla Su un rimpallo Prendi proprio A fare il tiro Però Su azione manovrata Siamo 0 Siamo 0 Aglio Isshin Sono preoccupato Sono preoccupato Questa è una squadra Che stiamo scendendo A piombo Occhio eh Ve lo sto dicendo adesso Occhio Qualcuno diceva Che questa è una squadra Che quando Fa sentire parlare Di salvezzi Veniva l'Orticarie L'Orticarie Sta a venire A Nutifus Ciao raga Buona serie a tutti Sempre Forza Pescara Mi raccomando Pollice in su Supportatemi Condivete il video Se ancora l'avevi fatto Iscrivetevi Qui sotto Il mio canale C'è il pulsante Iscriviti Poi andremo a parlare Anche della giornata Che è stata Domani Faremo il video Sulla Giornata che è stata Oggi Fermiamoci Cremonese Pescara Ciao a tutti Grazie a tutti